grazie presidente io credo che questa discussione ancora una volta esplichi bene la differenza come dice l'ingegner Laldi lui viene qui rappresenta gli interessi privati della società corporazione america bene noi rappresentiamo gli interessi pubblici e questi in alcuni casi sono irriducibili e sono diversi lei dice che sono un disco noi siamo un disco rotto come mia nonna mi ha insegnato repetita Juvent e supereto lo Juvent ha aiutato tanto ingegner Laldi e io il tavolo di concertazione supereto a noi glielo chiedo perché supereto la posizione dell'interesse privato è stata sconfitta e farò una battaglia e faremo una battaglia e l'abbiamo vinta diciamo quel mondo che ha trattato sempre un po' con sufficienza che però è rappresentato da sindaci che rappresentano decine e decine di migliaia di cittadini della piana fiorentina l'associazione ambientalista l'università di Firenze sa meglio di me qual è lo schieramento diversificato che ritiene quel progetto sia sbagliato mi colpisce questo è il primo dato politico che poi ci servirà nella seconda discussione che la pista la nuova pista di Pereto in quelle condizioni che è stata chiaramente bocciata viene riproposta oggi tale e quale questa è la linea di corporazione america io mi auguro e farò di tutto perché la regione non avvii quel percorso perché questo è un progetto sbagliato colpisce anche come alla luce della crisi che lei illustra e che io condivido per i scenari sono d'accordo anche col consigliere Mannoci sul pessimismo non si metta neanche in discussione rispetto a quelli che sono gli impatti quindi il primo punto che emerge da oggi è che si volete andare avanti con Peretola così come bene su questo gli interessi sono contrapposti e sono contrapposti in maniera in maniera netta debbo essere sincero che esprimo anche questo giudizio lei in qualche modo ma sempre lo dimostrate continuamente questo fastidio come se il pubblico non so non può controllare il pubblico insomma non gestisce questo pubblico da un po fastidio però il pubblico a cui si chiedono però sempre i soldi perché la pista di Peretola senza i soldi pubblici non la fate me colpisce questa classe imprenditoriale lo dico onestamente che fa le grandi opere o però con le risorse pubbliche perché senza i 50 milioni dello sblocco italia che per me è una cosa inaccettabile e quella pista non si fa e questo è il dato politico per cui diciamo da un lato si fa i grandi imprenditori privati coi soldi pubblici è un modo di fare diciamo che appartiene a un certo un certo tipo di mondo che io non condivido completamente e per questo bisogna dare delle risposte penso che quelle risorse debbano essere utilizzate lo dico altrimenti e proprio per questo motivo sono assolutamente non soddisfatto come dire del della dell'indicazione che viene data sull' eventuale utilizzo delle risorse che verranno della ragione io credo che invece lei faceva il l'esempio dei part time verticali sono dei part time no che sono oggi senza ammortizzatori 70 famiglie nella città nell'aeroporto pisano bene servono delle misure straordinarie a fronte di una società che ha fatto sempre profitti non è pensabile che alla prima crisi i primi a pagarne le conseguenze siano i lavoratori e le lavoratrici questo è inammissibile e quindi a tutti i livelli dal governo alle regioni agli enti locali e al so e a e a toscana aeroporti devono rispondere a questo elemento io credo che sia fondamentale e noi chiederemo che siano vincolate quelle risorse altrettanto onestamente lei mi apprendiamo la notizia sindaco conti apprendiamo la notizia che la società era pronta nel giugno duemiladiciannove a partire i lavori per il nuovo termine ma non sono partiti per colpa del comune mi pare che questo sia una notizia che apprendiamo nel in quello che ci ha raccontato l'ingegner Nanti perché loro erano pronti invece le sono arrivate le autorizzazioni a giugno del duemilaventi allora io non capisco e non ho capito perché questi lavori fatidici non sono eh non sono iniziati credo anche che su questo ci debba essere un chiarimento che io non ho capito perché in tutti questi anni questi investimenti onestamente non siano stati fatti cioè dal duemila quindici al duemiladiciannove prima dell'emergenza non si capisce cosa sia successo in questi quattro anni per cui questi investimenti non siano non siano stati fatti lo dico e lo ribadisco e altrettanto dico su un altro punto lei ci ha raccontato che qualche settimana fa avete stanziato trecentomila euro sulla situazione dei vigili del fuoco è stato detto è il minimo di quello che doveva succedere noi abbiamo visto i documenti in cui dal comando dei vigili del fuoco viene messo in evidenza addirittura anche il rischio di non fare il servizio alla luce della situazione che abbiamo stiamo parlando di trecentomila euro su un bilancio da milioni di euro di una società che allora prima tutto pre emergenza perché questa situazione critica non è che è scoppiata al marzo del duemilaventi col covid è tutta pre emergenza io credo che su questo bisogna provare a distinguere le cose perché altrimenti diventa un tutto indistinto e l'emergenza non consente più di fare niente di quello che non è stato fatto e di quello che è stato fatto io rilancio la necessità non di un tavolo di concertazione in generale ma qui c'è necessità di un tavolo di crisi regionale con tutti i soggetti un tavolo di crisi regionale alla luce di quello che sta avvenendo poi si figuri io capisco eh eh so eh vedo palesemente il suo fastidio rispetto a tutto ciò ma a questo e alla politica anche gli imbreditori devono rispondere e se dovrà fare una ragione ma io eh se mi permettete darei dei tre minuti di replica al dottor Naldi perché mi sembra che che volesse precisare credo soltanto dei piccoli punti eh nel rispetto del della risposta molto precisa è arrivata puntuale di Auletta e poi se aprite il microfono e potrò concludere potrò concludere anch'io ecco Sì va bene conclusione di conclusione Auletta io non voglio nessuna conclusione il quando noi siamo eh iniziato il covid lei se lo ricorda vero che era marzo no? Bene era marzo eh ancora non era stata approvata la eh il progetto del collettore fognario che attraversava per poter iniziare la la demolizione è stata approvata di giugno ma nel frattempo era successo il covid e nel frattempo la eh l'impostazione per poter iniziare interventi era completamente cambiata quindi non c'è stato questo questo un motivo strano non è strano perché è successo a giugno e poi io le ricordo che il master plan è stato approvato non per colpa nostra nel ottobre del duemila diciannove e questo ha consentito poi di poter sbloccare tutto e poter fare il il avviare le progettazioni esecutive per poter iniziare i lavori prima non era possibile farlo quindi questo è una risposta puntuale per quanto riguarda il fatto dei dei lavoratori noi li siamo assolutamente però lei parla un pochettino molto liberamente di società dalle uova d'oro intanto io ricordo che noi eh noi con proposta del consiglio dell'amministrazione quest'anno non è stato distribuito nessun utile questo per supportare la società e poter continuare a pagare i lavoratori durante il periodo che non hanno ricevuto la cassa integrazione perché poi come le ben sale legge nei giornali i ritardi su questo sono stati importanti e l'integrazione c'è stata da parte della società sempre e non l'abbiamo lasciato per strada nessuno ma quello che l'ho detto specificamente è una norma specifica che non abbiamo fatto noi dell'Ips e quindi non possiamo noi rinnovare il contratto bene perché poi se no eh noi siamo ripeto forse si fa fatica a capirlo anche la parte su noi siamo una società quotata e dobbiamo rispondere anche nei confronti della signora Rosa di Cologno-Monsese che ha eh mille euro investiti dei suoi risparmi dentro e quindi ci dobbiamo comportare di conseguenza da questo punto di vista e questo è un mio dovere che io devo e devo ottemperare sempre nel rispetto delle persone perché noi abbiamo rispettato il lavoro di tutti nessuno più di me lo può sapere noi abbiamo salvaguardato fino oggi il lavoro di tutti e questo io ci tengo e non voglio che vengano fatte delle illazioni per quanto riguarda la pista lei continua a dire che è stata bocciata io le invito a leggere in pubblico con me la sentenza del Consiglio di Stato se dice che la quella dal punto di vista ambientale non è stata bocciata dal punto di vista ambientale se lei è corretto lei la legge vede che è stata è stata bocciata per una diciamo eh problema di carattere amministrativo e non tecnico ambientale dopodiché ognuno è legittimo è legittimato a pensare come la come come crede io mi creda ho assolutamente nel conto che chi come lei o dei comuni della Piana o delle fantomatiche associazioni ambientalistiche perché sono fantomatiche sa sono veramente fantomatiche quelle che sono si sono mosse qui su Firenze facendo venire i notav dal Piemonte sono veramente fantomatiche e da questo punto di vista però farete di tutto e mi creda noi faremo le cose nel miglior modo e se non sarà possibile che vengano approvate il miglior modo le rifaremo ancora in un altro modo finché persone eh assolutamente che non hanno una visione strategica vera come lei o come altre non avranno più modo di poter intervenire ma noi comunque finché ci siamo noi questa è un'operazione che andrà avanti e grazie a Dio buona parte della politica della regione la pensa come noi grazie grazie a Dio buona parte grazie a Dio buona parte